De Gusticos è il festival dei Cuscus tutto all'italiana, raccontato in mille versioni, in mille modi totalmente sconosciuti, dalle colazioni fino ai dolci, attraverso i primi, attraverso i secondi, quindi preparati in modi estremamente semplici ma con dei risultati super d'effetto, direi quasi stellati, quindi merita di essere vissuto dal 19 al 22 di luglio a Termoli in una fantastica location che è il porto di Termoli sotto il borgo, un borgo meraviglioso, quindi accompagnato da chef importantissimi così come madrina dell'evento e appunto la Bauerman, Alice Marchetti, le blogger di Giallo Zafferano e ovviamente tutto corredato da artisti importantissimi, quindi avremo da i Morciba che presenteranno l'album nella tappa estiva appunto di Degusticos, avremo Car Brave e Franco 126, avremo il trio Renga, Pezzali e Neck ed infine a chiusura dell'evento avremo I Negrita con il loro album, quindi in più ci sarà lo sport, quindi campione del mondo di bodybuilding naturale ambassador Martino per le premiazioni dei tornei, quindi direi che a 360 gradi ne abbiamo per tutti e di tutti i colori, quindi vi aspettiamo a Degusticos.